Seconda parte di 7 in punto anche per questo mercoledì 23 ottobre, dunque siamo alla vigilia dell'apertura delle manifestazioni che caratterizzano questa quattro giorni veneziana che culminerà con la Venice Marathon. Siamo con Piero Rosa Salva, presidente di Venice Marathon. Presidente, insomma, si comincia da domani ma il lavoro organizzativo che c'è alla radice, a monte di questa manifestazione, crediamo che, come dire, per l'edizione 2014 inizi già lunedì prossimo. Ma stiamo pensando anche a quella 2015, anche perché il 2015 sarà il nostro trentennale, del quale ovviamente saremo orgogliosi e stiamo già pensando a un'edizione speciale, tra l'altro il 2015, come è noto, è l'anno dell'Expo di Milano, abbiamo già dialogato con Milano perché, come i telespettatori sanno bene, l'Expo nasce, comincia il primo maggio e si chiude il 31 ottobre del 2015. Quindi, siccome è molto vicino alla data in cui noi dovremmo fare la Venice Marathon, che è sempre l'ultima domenica di ottobre, forse faremo qualche bella sorpresa e vedremo anche di farla diventare, perché no, una maratona universale, se permettete la presunzione. No, in realtà noi vogliamo prepararci al trentennale con delle iniziative speciali e certamente anche con un aumento dei partecipanti, cercheremo di organizzarci al meglio. Ma già il 2014 è assolutamente già iniziato dal punto di vista organizzativo, questi eventi esigono un lavoro ormai tutto l'anno, noi abbiamo un piccolo nucleo di persone appassionate e anche a qualcuno un piccolo nucleo di persone che professionalmente organizzano questa cosa. Noi appunto fondatori siamo degli appassionati, ma abbiamo bisogno anche perché la nostra vita è andata avanti, abbiamo le nostre professioni, per cui abbiamo uno staff di alcune persone che lavora tutto l'anno e siamo felici anche che la Venice Marathon rappresenti dei posti di lavoro. È un impegno organizzativo perché, ripeto, noi vogliamo mantenere degli standard di grande eccellenza, siamo stati riconosciuti come una maratona ben organizzata che riesce a sopperire anche di tanti problemi particolari, perché una curiosità che forse può interessare anche i telespettatori è che le maratone si dividono in due grandi famiglie, quelle che sono in circuito, cioè dove la partenza e l'arrivo è nello stesso punto e quelle in linea. Quelle in linea si considerano un po' più di prestigio perché rappresentano questa grande corsa verso un altro luogo, correre 42 km e tornare allo stesso punto talvolta è considerato un po' particolare. Però è evidente che è anche molto più semplice perché le strutture di partenza e di arrivo sono le stesse, le persone arrivano, lasciano la loro borsa e poi partono e poi ritrovano i propri indumenti, ritrovano i ristori eccetera. Mentre noi che facciamo una gara in linea dobbiamo per esempio trasferire tutti gli indumenti che gli atleti lasciano, hanno il diritto di lasciare alla partenza perché quando voi capite una persona parte da strada, parte in maglietta. Naturalmente quando arriva a Venezia dopo l'arrivo vuole almeno cambiarsi la maglietta oltre che coprirsi, oltre che magari ristorarsi e quindi ha il diritto a vedersi trasportato uno zainetto numerato con il numero del proprio pettorale e noi dobbiamo farlo in poche ore, pochissime e oltretutto nel caso di Venezia questo è appesantito dal fatto che dobbiamo portarlo al terminal, al tronchetto, scaricare, metterlo nelle barche, portarlo all'arrivo che è vicino ai giardini della Biennale. Pensate che solo questo occupa 80 persone circa, tra l'altro persone che devono poi sapere le lingue e che provvedono a riconsegnare queste 7-8 mila borse numerate, non devono naturalmente confondersi perché se no sarebbe un disastro e quando uno arriva, magari dopo due ore e mezza, tre ore e quant'altro, deve rapidissimamente trovarle, quindi sono tutte messe in ordine. Ecco, la maratona quindi esige un'organizzazione molto articolata, noi curiamo moltissimo anche il servizio sanitario, fisioterapisti, abbiamo decine di persone perché le persone vanno tutelate naturalmente, tre centri di animazione distribuiti lungo il percorso, ambulanze, idroambulanze, a Venezia c'è un motoscafo ambulanza che costeggia il percorso delle zattere e della riva degli schiavoni per qualsiasi esigenza. E poi noi abbiamo anche voluto fin dal primo anno consentire la partecipazione degli atleti nelle carrozzine, 30 anni fa la sensibilità per queste cose non era quella di oggi. Venezia Maraton è stata riconosciuta anche dall'amministrazione comunale e non solo di Venezia come portatrice di un messaggio che ha poi indotto, stimolato all'amministrazione comunale l'apertura di tutta una politica di accessibilità, difatti noi costruivamo delle rampe che stavano sui ponti di Venezia solo il giorno della gara e invece l'amministrazione comunale, la soprintendenza e quant'altro hanno ritenuto che fossero un modello di accessibilità e quindi adesso rimangono alcuni mesi e questo è gradito non solo agli eventuali turisti o cittadini che dovessero purtroppo muoversi su una carrozzina, magari per un incidente, ma anche ai turisti con le valigie, alle mamme con le carrozzine con i bambini, alle persone che hanno il carrello della spesa. Quindi questo ha stimolato anche un nuovo modo di vivere a Venezia con dei progetti molto interessanti di accessibilità. Quindi attraverso questi fenomeni sportivi, che nascono magari sportivi, ma si innesca poi tutta una serie di riflessioni da parte della pubblica amministrazione, pensiamo che il Comune di Venezia costruisce ad hoc un ponte che attraversa il Canna Grande, come lo fa per la festa del Redentore e lo fa per la Madonna della Salute alla festa del 21 novembre prossima, a noi molto cara, noi veneziani, attraverso la società Insula, che è una società del Comune, che organizza questo ponte che è bellissimo, tecnicamente galleggiante sulle barche, che è anche per i partecipanti un momento molto suggestivo. Presidente, la Venice Marathon allora abbatte anche le barriere in questo senso, quelle famigerate barriere architettoniche di cui tanto si parla e per cui tante volte proprio il capoluogo Langonar viene tirato in barro. Assolutamente. Il Presidente Rosa Salva ci offre l'assist, ovviamente parlando proprio di questo importante momento dedicato ai diversamente abili, lo spunto per ricordare uno dei grandi testimoni della Venice Marathon, parliamo di Alex Zanardi. Beh, Alex Zanardi è molto più che un testimonial, è un grandissimo protagonista, è un amico della Venice Marathon, sarebbe riduttivo definirlo da parte mia un testimonial. È un uomo straordinario che dà un modello e un messaggio di vita fantastico a tutti, veramente emozionante anche per me quando ci penso. Devo dire che Alex ci ha insegnato molte cose sul piano umano, si è avvicinato alla Venice Marathon quando ha ripreso questa attività sportiva, come moltissime altre gare, ha vinto le Olimpiadi, quindi basta dire questo. Ma devo dire che con noi ha veramente mantenuto un rapporto di grande amicizia e molto impegnato anche con noi, perché appunto ha colto che con la Marathon a Venezia può essere, visto il nome di Venezia, il fascino che Venezia ha nel mondo, un grande messaggio per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Lui ha per esempio espresso anche un grande apprezzamento per l'amministrazione comunale veneziana, per questo sforzo, perché è chiaro che rendere accessibile una città normale è impegnativo, certamente, ma rendere accessibile Venezia che ha centinaia di ponti e scalini dappertutto è ovviamente molto più difficile. Quindi Alex sarà con noi, sarà con noi, tra l'altro scioglierà proprio in queste ore un dubbio, perché di solito lui corre le maratone con una carrozzina che si muove con un meccanismo tipico della bicicletta, sia pure ovviamente guidata e portata con le mani, mentre vorrebbe provare a correre con la carrozzina olimpica, quella che poi rientra invece nei canoni dell'atletica leggera e appunto dell'olimpismo, che è spinta, le mani spingono le ruote. Molto più impegnativo, molto più faticoso e molto più lunga anche la gara. Lo può fare a Venezia proprio perché ha curato assieme a noi, ci ha dato dei consigli e quindi sarà con noi anche il giorno precedente per dialogare con tutti, perché è un uomo straordinario anche dal putista umano. Non è solo lui, noi abbiamo visto crescere Bebbe Vio, la ragazzina, la nostra amica, che anche lei purtroppo ha dovuto subire l'amputazione degli arti, di parte degli arti superiori e inferiori, ma ha voluto anche lei rilanciarsi nella vita con un entusiasmo che ci ha insegnato molte cose, ha ricominciato a fare sport, scherma e non solo. Quindi quest'anno noi poi abbiamo accolto l'invito di Teleton di dedicare la maratona ai suoi progetti e raccogliamo fondi per Teleton, oltre che continuare i progetti che già abbiamo realizzato da molti anni, che sono lo scavo di pozzi d'acqua in Africa, oltre quasi 20.000 persone, grazie alla Venice Marathon, hanno oggi l'acqua a distanza ragionevole dal loro villaggio. Poi abbiamo i bimbi in gamba, che è un progetto di Alex Danardi, per delle protesi che vengono date nei casi necessari. E veramente c'è molto, poi abbiamo aiutato anche i Rotary nei progetti di sradicamento della polio, insomma sono cambiate molte iniziative benefiche, ma lo facciamo senza piageria perché lo fanno soprattutto i partecipanti, noi non siamo solo dei collettori, e lo fanno soprattutto con un messaggio ai giovani. Perché voglio ricordare che Venice Marathon è preceduta il sabato, sabato prossimo, in questo caso dalla Family Run. Noi abbiamo da molti anni pensato che chi non può e non vuole correre 42 km, e sono la maggioranza, però può aver voglia di correre una gara più breve. Allora, mentre altre maratone lo fanno lo stesso giorno, noi per alcuni motivi organizzativi non lo facciamo mai la domenica mattina, che è dedicata solo alla maratona da 42 km, ma il sabato. E quindi da molti anni, il sabato mattina, c'è una prova molto breve, di qualche chilometro, dedicata ai ragazzi delle scuole, che raccolgono fondi per la loro scuola e per i messaggi di beneficio. Quest'anno la Family Run, dopo il successo di Mestre, da alcuni anni anche a Dolo, emigra anche a Sandra Di Piave, che ha chiesto di fare una terza a Family Run. Quindi noi pensiamo che sabato mattina, contemporaneamente, si muoveranno più o meno 15.000 persone. E tra l'altro per questo le iscrizioni sono ancora aperte, quindi io vi invito a partecipare. L'invito è la quantizzazione di 4 euro, di cui la gran parte va poi per queste iniziative benefiche. Mamma mia. Presidente, noi le siamo estremamente grati. Dunque, appuntamento già a partire da giovedì per le manifestazioni collaterali. Domani pomeriggio al Parco di San Giuliano. Domani pomeriggio al Parco di San Giuliano, fino a domenica, per questa grande festa veneziana, ma non solo, di tutta la terraferma veneziana, allargata addirittura al Veneto orientale, con il coinvolgimento di San Donà. Grazie a Piero Rosa Salva, Presidente della Vence Marathon. Buon lavoro. Bene, grazie a tutti. Bocca al lupo dunque al nostro ospite. Crepi, crepi il lupo. Grazie a Piero Rosa Salva, adesso ci fermiamo qualche istante, tra poco tratteremo i problemi dell'agricoltura con il Presidente della CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori di Padova, Claudio Dascagno. A tra poco. Grazie a Piero Rosa Salva. Ben ritrovate amiche e amici di Sette in Punto, terza puntata di questa nostra nuova settimana insieme che ci sta conducendo verso la fine del mese di ottobre, dunque verso le celebrazioni dei defunti. Noi oggi però siamo qui per celebrare una grande festa, una festa che non è solo di sport. La prima parte, infatti, di questa nostra mattinata insieme è dedicata al grande evento che caratterizzerà non solo la giornata di domenica, ma praticamente tutto il fine settimana a partire da giovedì, dunque da domani. Parliamo della Vence Marathon che tra poco si appresta a tagliare un traguardo importante, quello dei 30 anni. Per parlarcene è con noi, e gli siamo grati di essere con noi questa mattina, Piero Rosa Salva, presidente della Venice Marathon. Buona mattinata a lei, presidente. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, grazie. Grazie di essere con noi. Come avrete modo di ammirare, il presidente ci ha fatto un grosso favore, cioè ha voluto indossare quella che è la casacca distintiva, rappresentativa dell'edizione di quest'anno. Tra l'altro anche molto bella, con questo colore nero e gli inserti arancioni che danno un'estrema vivacità. Forse vi siete anche ispirati in qualche modo ai colori dell'autunno o no? Beh, ma certamente il nostro sponsor tecnico è molto accurato e ogni anno ci offre un'immagine coordinata e che è anche molto apprezzata. Devo dire, noi siamo felici di indossare delle cose belle all'altezza della manifestazione che cerchiamo di organizzare, soprattutto del territorio che va a interessare, che è molto prestigioso. Poi devo dire che è importante che queste cose siano belle e soprattutto funzionali, perché di fatto sono anche l'unico riconoscimento che ricevono quelle centinaia, anzi migliaia di persone che tra domani, giovedì e domenica rendono possibile l'evento, perché il miracolo di queste manifestazioni è che c'è un concorso di volontariato straordinario, domenica mattina sul percorso ci saranno circa 2000 persone, di cui la gran parte volontari, poi ci saranno ovviamente le forze dell'ordine che ringrazio fin d'ora, la protezione civile, il servizio medico e quant'altro. Però l'ossatura è fatta di appassionati, magari sportivi per altri versi o semplicemente persone che anche ci scrivono e dicono mi piacerebbe vivere una domenica diversa, siccome non posso correre 40 km, 42 km, posso fare il volontario, fare qualcosa di utile e così l'appello è sempre aperto naturalmente. Presidente, noi stiamo parlando con la persona che rappresenta nella misura più assoluta la Venice Marathon, perché queste 28 edizioni, vabbè, a parte una pausa di qualche anno per impegni di carattere istituzionale che avevano interessato il nostro gentile ospite, però diciamo che Piero Rosa Salva è la Venice Marathon. Presidente, in questi 28 anni che cosa è cambiato, che cosa è migliorato, magari che cosa anche non è migliorato, anzi è peggiorato, se qualcosa è peggiorato? Il mondo è cambiato e quindi è cambiato il nostro territorio, è cambiata anche, se vogliamo, la situazione dello sport italiano. Ricordiamoci che 30 anni fa io avevo degli incarichi nella Federazione di Atletica Leggera e nel CONI Veneto, il totocalcio imperversava, lo sport aveva molte risorse pubbliche, cosa che oggi non c'è più e tutto è molto cambiato, ma soprattutto è cambiato il nostro territorio, la nostra economia. 30 anni fa alcuni amici, perché poi si parla magari di me, perché ci vuole poi un protagonista, però in realtà la Venice Marathon non sono io e non sono mai stato io, è stato un gruppo di amici, tutti appassionati di Atletica, in particolare di Atletica, che hanno voluto così, fare una sfida se vogliamo, perché il mondo dell'atletica era solo la pista, avevamo grandi atleti in Italia e cominciavano ad affacciarsi le maratone nel mondo, ovviamente la più conosciuta da tutti è New York, che in quegli anni veniva vinta per l'altro da un'atleta veneto, Orlando Pizzolato, che vinse nell'84 e nell'85. Cominciava a vincere Bordin, Gelindo Bordin, quindi nel Veneto vi era molto fermento e allora noi eravamo molto incuriositi da questo fenomeno delle corse che si stava diffondendo e decidemmo, siccome in Italia mancava un grande evento del genere, avevamo molti atleti bravi, ma nessuna manifestazione di questo tipo, decidemmo di provarci e naturalmente organizzare una grande manifestazione internazionale, forse uno dei meriti che abbiamo avuto, i pochi meriti, ma certamente qualcuno l'abbiamo avuto, è stato di tararci subito per un grande evento a livello internazionale e anche un evento che non fosse solo sportivo, ma che avesse una forte valenza promozionale del nostro territorio, da cui per esempio è nata la scelta del percorso, che non è casuale, nel senso che dato per scontato, anche perché eravamo e siamo tutti dell'area veneziana, abbiamo pensato che certamente bisognava arrivare a Venezia e già questo è stato temerario perché abbiamo dovuto risolvere alcuni problemi, però abbiamo pensato qual era il modo più significativo per arrivare a Venezia, perché poi a Venezia si può arrivare da molte strade, tutte molto belle, attraversando territori belli, ma abbiamo pensato che il modo più giusto era quello di fare la riviera del Brenta, che è poi la via che percorrevano i nostri antichi progenitori quando realizzarono quelle splendide ville, quindi la riviera del Brenta ci pareva incardinare meglio un messaggio anche culturale, storico, oltre che paesaggistico, perché la riviera del Brenta è stupenda, e di offrire quindi ai partecipanti un percorso unico al mondo, non solo per gli ultimi due chilometri a Venezia, ma anche proprio nella prima parte che si è rivelata di grandissimo successo. Come è noto, la Venice Marathon parte di fronte alla Villa Pisani a Stra, percorre quindi tutta la riviera, il Naviglio con Fiesso d'Artico, Dolo, Mira e poi entra a Malcontenta, altra villa straordinaria. Poi noi abbiamo voluto attraversare anche però la città moderna, non solo frettolosamente andare a Venezia e abbiamo quindi deciso di far passare tutti gli atleti anche nella città industriale di Marghera e poi nella città nuova, la città dell'economia, della gioventù che è mestre naturalmente, perché avevamo la presunzione che i partecipanti dovessero ritornare a casa con un'immagine compiuta di questo territorio. Insomma, forse ci siamo un po' riusciti, perché gli partecipanti sono sempre cresciuti, ormai da anni ci attestiamo tra i 7 e gli 8 mila, quest'anno abbiamo superato i 7 mila, nonostante un periodo di crisi e anche economica che ci faceva pensare a qualche calo di tensione, invece soprattutto gli stranieri sono rimasti oltre la soglia dei 2 mila che ci rappresenta anche dal punto di vista economico e promozionale un fortissimo significato. Presidente, voi partite già con questo nome impegnativo, meraviglioso, ma difficile, delicato da sostenere che è Venice, cioè Venezia, un termine internazionale che inevitabilmente vi ha portato ad accettare una sfida che gioco forza doveva essere una sfida di ampie proporzioni. Noi, così, nel nostro piccolo ci siamo permessi di intitolare proprio questo spazio a lei dedicato, promozioni in corsa, perché proprio la Venice Marathon ha questa valenza, oltretutto di grande valore sportivo, perché poi parleremo anche dei partecipanti, ma la promozione di un territorio che non è vero che sia così conosciuto, perché lei giustamente ha citato una riviera del Brenta che diventa una vetrina internazionale per persone che magari scoprono, proprio grazie a questa corsa, che non esiste solo Venezia, ma esiste anche una terraferma che è veramente meravigliosa. È una maratona metropolitana, come si direbbe adesso. 30 anni fa ovviamente questo concetto non ci apparteneva. La riviera del Brenta effettivamente non era conosciuta come un distretto, come una struttura. Erano note le sue ville, era nota l'economia della calzatura, per qualche anno purtroppo era anche nota per altri aspetti meno lusinghieri, però noi non abbiamo assolutamente avuto problemi a imporre questo messaggio, cioè di un filo conduttore che attraverso il naviglio del Brenta ci portava a Venezia. E d'altra parte è stato anche un messaggio facile da realizzare. Poi Venezia. Venezia indubbiamente è un biglietto da visita straordinario, però è anche una città che obbliga ad essere alla sua altezza, quindi non si può a Venezia organizzare qualcosa di profilo medio-basso. Questo vale per tutto, per la cultura, per le grandi manifestazioni, gli eventi veneziani, ne sappiamo qualcosa, devono essere sempre tenuti al massimo. È un'immagine che va sostenuta, ma che va anche rispettata. Per cui noi ci siamo subito posti il problema di non far sì che la maratona si inserisse nello scenario veneziano in modo improprio, quasi come una scampagnata poco appropriata, poco elegante. Quindi abbiamo voluto dare subito dei connotati tecnico-organizzativi molto rigorosi, l'allestimento del percorso, il decoro delle strutture. Non poteva essere una corsa non competitiva, con tutto il rispetto, che si può fare in modo molto efficace, magari in qualche località periferica, doveva essere una gara elegante. Quindi abbiamo curato i minimi particolari, come dicevamo prima, anche nell'abbigliamento degli addetti, tutto doveva essere molto all'altezza della situazione e la scelta del percorso anche doveva prevedere delle strutture assolutamente efficaci. Perché, attenzione, abbiamo voluto fare una grande gara internazionale riconosciuta a livello mondiale, le maratone hanno un percorso che si certifica, è una sorta di qualificazione che viene data, perché hanno una misura precisa, 42 km, 195 metri, secondo la vecchia tradizione olimpica. Quindi viene una commissione internazionale, misura il percorso in modo preciso e quello deve essere. Quindi poi se si cambia bisogna rifare la misurazione. Quindi è una gara di altissimo livello che ha avuto grandissimi campioni, ha visto vittorie appunto di tutti i più grandi atleti del mondo, atleti che poi hanno esordito a Venezia e hanno vinto poi anche Olimpiadi come Baldini, Bordin stesso, Pizzolato e molti altri. Dal 1995 non vince più un atleta italiano, la maratona italiana ha anche i suoi problemi tecnici, però noi abbiamo quest'anno voluto investire molto sugli atleti italiani, individuando un grande atleta veneto che c'è molto caro, Ruggero Pertile, che è ormai maturo, che aveva già esordito a Venezia e un giovane emergente invece che è Andrea Lalli, che è un atleta delle fiamme oro, che ha già vinto il campionato europeo di cross e che è l'astro nascente del fondo italiano. Naturalmente abbiamo affiancato anche degli atleti africani di altissimo livello, Masai e molti altri, perché la gara di Venezia ormai è una delle principali al mondo. Purtroppo proprio l'altro ieri Pertile ha dovuto presentare, annunciare la sua mancata partecipazione per un guaio muscolare. D'altra parte la maratona non perdona, è una gara ai limiti dell'umano e quindi queste persone corrono per 42 km alla velocità che una persona sportiva, come molti dei telespettatori che ci vedono oggi, fanno magari fatica a fare per 50 metri per prendere l'autobus, anzi visto che stamattina stiamo andando tutti al lavoro, insomma a scuola. Quindi Ruggero lo salutiamo e starà con noi comunque e ci farà compagnia, magari commenterà la ripresa televisiva, non lo so, però lo aspettiamo il prossimo anno. Intanto diamo il benvenuto a Lalli e speriamo che lui possa a Venezia trovare le motivazioni per aprire una grande stagione di successi e rinverdire l'atletica italiana e la maratona italiana. Andrea Lalli, lo ricordiamo, molisano, ma un atteto emergente, insomma una delle grandi speranze del fondo italiano. Presidente, possiamo dire che la rilevanza internazionale è in qualche modo equiparata anche al riflesso importante a livello locale che ha avuto la Venice Marathon, perché in qualche modo, insomma, non ce lo nascondiamo, sono nate tante maratoni in Veneto, pensiamo alla Maratona del Santo, alla Treviso Marathon, come dire, sulla scia di una strada che ha aperto la Venice Marathon. Beh, probabilmente sì, il movimento è cresciuto, è cresciuto comunque il movimento della corsa, lo vediamo ogni domenica quando vediamo migliaia, decine di migliaia di persone che corrono, naturalmente è un fenomeno importante dal punto di vista della salute, dal punto di vista sociale, perché la corsa aggrega moltissimo, si sta insieme per molte ore, non è una corsa veloce, non è uno sport che pure tutti noi pratichiamo, che magari ci vede uno contro l'altro come il tennis o gli sport di squadra, sono quelle discipline che ti costringono sia negli allenamenti sia nella gara a stare assieme molto a lungo e quindi hanno un'importante valenza anche sociale, certamente, io penso che sia molto bello questo e la maratona è anche molto impegnativa, io tra l'altro non ho difficoltà da mettere, non ho mai corso in vita mia, facevo molti sport, ma ero incuriosito dal fenomeno maratona pur non avendo mai corso distanze lunghe, non è nel mio talento, quindi considero degli eroi le persone che corrono la maratona. Difatti noi non solo accogliamo con grande onore i primi arrivati, ma tradizionalmente la maratona di Venezia ha un tempo massimo di sei ore che in realtà si sfora sempre perché aspettiamo gli ultimi e li aspettiamo con gli stessi onori dei primi, magari persone che ci mettono sette ore, ma che arrivano con una gioia negli occhi di aver compiuto una grande impresa e lo è, è una grande impresa indubbiamente. Vede, questa è la grande capacità, ci permettiamo di osservare, di combinare quello che è il rilievo internazionale di una gara riconosciuta a livello planetario con il clima di grande festa che si deve respirare nella Venice Marathon. Presidente, noi però abbiamo parlato di Venice Marathon come momento culminante di una giovedine, di sabato e domenica, di una quattro giorni che sarà intensissima a livello di manifestazione. Sì, perché questi grandi eventi raccolgono migliaia di persone che vengono anche da lontano, abbiamo atleti anche dall'Australia, dalla Sud America e quindi sono abituati non solo a lasciare anche dal punto di vista economico delle risorse importanti nel nostro territorio, siamo orgogliosi di poter dire che degli studi che vengono fatti periodicamente dalla Camera di Commercio di Venezia e da noi hanno dimostrato anche lo scorso anno un indotto superiore ai 7 milioni di Euro, che non è poco e che va a ricadere prevalentemente nel territorio veneziano, non solo a Venezia città naturalmente, ma anche fuori perché abbiamo dei dati che dicono che molte persone dormono magari nella zona di Padova, vicino alla partenza oppure anche nella zona trevigiana. Quindi si fa, naturalmente sono fenomeni anche di tipo economico, insomma, però queste persone, tutti i partecipanti, innescano inevitabilmente anche un'attesa di avere delle occasioni nei giorni precedenti perché si fermano più giorni, poi c'è dietro tutto un movimento anche industriale, economico, per cui quasi tutte le maratone organizzano nei giorni precedenti una sorta di fiera, di grande festa, noi la realizziamo da molti anni ormai al Parco di San Giuliano a Messe, si chiama Expo Sport, la inauguriamo domani pomeriggio alle 16 e rimane aperta fino a domenica, ma domenica è più difficile raggiungerla perché il percorso della maratona ci passa in mezzo, quindi consiglio i telespettatori e tutti gli amici veneti che potranno andare di venire al Parco di San Giuliano o giovedì pomeriggio o venerdì è sabato e lì si potranno ammirare tutti gli articoli sportivi, tutte le aziende presentano le loro nuove scarpe, nuovo abbigliamento sempre più tecnico, sempre più raffinato, integratori alimentari, prodotti alimentari anche semplicemente, c'è tutto un settore legato al turismo sportivo, ci sono poi tutte le tecnologie, cronometri, cardiofrequenzimetri e quant'altro perché poi queste grandi manifestazioni ovviamente portano dietro di sé degli interessi economici notevoli. Naturalmente ci sono poi gli stand di presentazione delle altre grandi maratone del mondo, comprese quelle venete, io saluto da qui gli amici di Padova, di Treviso e anche di Verona, le tre grandi maratone che sono nate dopo di noi ma che comunque con le quali abbiamo degli ottimi rapporti, sviluppiamo anche una promozione integrata e devo dire che il movimento complessivamente cresce, noi non siamo affatto invidiosi di questo perché più persone corrono, più questa cultura cresce, ovviamente fa bene anche la Venice Marathon ma fa bene soprattutto alla salute, ci auguriamo, all'economia e poi posso concludere dicendo anche al sociale perché queste grandi manifestazioni, Venice Marathon in particolare, si dedica molto anche iniziative benefiche attraverso la raccolta fondi. Questa è la grande forza dello sport insomma, lo scopriamo, diciamo che è un modo per valorizzare ulteriormente un aspetto che è già nel DNA della disciplina sportiva perché la disciplina sportiva è qualcosa che ti libera da tutte le tossine che si accumulano nel corso della giornata, della quotidianità per veramente esprimere il meglio di se stessi, per scaricare, per essere veramente tutt'uno mente e corpo e crediamo insomma di interpretare quella che è la sensazione che si prova quando si fa sport, ecco proprio anche da un punto di vista dello spirito, dell'animo. Il Presidente ci ha descritto molto bene tanti aspetti, andremo nello specifico ad analizzare come si articoleranno queste quattro giornate, lo faremo però tra qualche minuto, il tempo di alcuni suggerimenti commerciali, rimanete con noi con Piero Rosa Salva, Presidente della Venice Marathon. A tra poco.